La 46esima edizione dei Premi Flaiano si contraddistingue quest'anno per molte novità. La prima è quella delle due serate di premiazione. La prima si svolgerà presso l'Aurum per la narrativa e l'italianistica e la seconda in Piazza Salotto per la premiazione del teatro, del cinema, della radio e della televisione. C'è stata una partecipazione altissima di scrittori, sono arrivati circa 86 libri, dalle case editrici più importanti a quelle minori. Questo ci fa capire quanto sia importante un premio di narrativa serio costituito attraverso una selezione tecnica di professionisti e di lettori, dei 100 lettori che poi svolgeranno il proprio lavoro votando nella serata finale e individuando tra i tre finalisti chi sarà il vincitore. In più c'è l'italianistica. L'italianistica, i libri sono arrivati da tutto il mondo, da 18 nazioni, e quello che colpisce del premio di italianistica è l'attenzione sempre maggiore che negli istituti di cultura all'estero viene data alla letteratura italiana, alla cultura italiana e allo studio della lingua italiana. E questo aiuta ancora di più il Flaiano nel proprio progetto culturale che è quello di diffondere la cultura.